Quello che mi è piaciuto di tutti, più di tutto, è la dedizione al lavoro. Una squadra che lavora molto e bene. Oggi era un test per vedere magari a che punto siamo col lavoro. Come dicevi tu, il risultato ora conta poco e niente. Però ho visto delle buone cose, dobbiamo lavorare, siamo ai primi passi. I ragazzi rispondono bene, mi piace, c'è entusiasmo, c'è convinzione e questa è la cosa che conta di più. Stiamo facendo questo, poi dobbiamo essere un po' camaleontici. Dobbiamo avere un modulo prescelto, però bisogna anche saper cambiare. Per ora cerco di lavorare su trequartista e di tenere le punte vicine. Visto la qualità che abbiamo, secondo me, per sfruttare le nostre caratteristiche, è importante avere un raccordo lì davanti al centrocampo. Poi se ci sarà la necessità siamo pronti a cambiare senza difficoltà perché stiamo qua a lavorare. I ragazzi fanno la fatica giusta, lavorano con entusiasmo e se c'è da cambiare cambiamo ma senza stravolgere nulla. In alcuni reparti siamo contati, lo sapete anche voi. Però con la società stiamo lavorando, con i direttori siamo a stretto contatto. Mi piace molto questa sinergia che si è creata, questa empatia che è la base di tutto, è la base del lavoro. Quindi stiamo lavorando per completare la rosa. Ci sono anche i giovani molto interessanti che sono stati delle felici sorprese. Quindi dobbiamo lavorare con la testa, scegliere i giocatori adatti e convinti. Perché se non sono convinti di venire qua è meglio che se ne stanno a casa. Ho detto che il primo giorno che non vengo al 200% i ragazzi sono giustificati a non allenarsi bene. Quindi questo non succederà mai, è l'unica cosa che posso dire. Con il mio staff stiamo facendo un lavoro a dettaglio per mettere nella migliore condizione i ragazzi di rendere a mille. Quindi si lavora con entusiasmo e stiamo lavorando bene. E oggi ne è stata la prova perché non è facile tenere ritmi dopo 7-8 giorni di allenamento facendo dei doppi lavori, sia di forza che lavori aerobici. Quindi sono molto felice e sono convinto che ci possiamo togliere grandi saluti.